once upon a time in italia pronto ho capito arrivo subito in bari a ruai ben arrivato matteo tu non lo sai ma uno dei grandi problemi di catania e il ciaffico non ti mettere la cintura cosa dobbiamo fare con questo che sto davvero abbissato Maren te l'ho portato benvenuto senti dimmi tutto intanto rilassati fai gli onori di casa vedi a prendere bello senso al limone e sale prima di parare certo vado subito te la ricordi il gatto patto è venuta la moglie disperata suo marito ci ha avuto un serio problema all'occhio segui signora Valera che è successo? mio marito mio marito ha avuto un incidente si cambia si sieda si sieda mio marito stamattina mentre lavorava in contiere ci arrivava un pezzo di ferro nell'occhio adesso è il chino di sangue dottore la prego mi aiuti signora Valera non si preoccupi ascolti la aiuteremo noi le do la mia parola amore di me mare grazie dottore grazie e così gli ho dato le mie parole amore di me mare mi verete allora ambare dobbiamo partire subito per la lenda amo lì grazie a tutti il interiore 23 gorge vitrectomy e fibrous membrana Membranes removal are performed using anterior chamber infusion. 23 gorge pars plana vitrectomy with peripheral shading. Fibrous membranes removal from the angle using 23 gorge scissors and forceps. Now let's focus on the anterior segment reconstruction for the simultaneous correction of post-traumatic athaequia and aniridia. Four scleral pockets are prepared. A foldable IOL is suited on the posterior surface of the custom-made silicon artificial iris of the same colour as the fellow eye. The artificial iris IOL is inserted into the anterior chamber and suited using scleral fixation technique with four proline 10-0 sutures at 1.5 mm from the limbus. The artificial iris IOL is militant. Now let's focus on the anterior chamber. The artificial iris IOL. The artificial iris IOL. The artificial iris IOL. The artificial iris IOL. Grazie a tutti. The end. Or maybe not. A year later. Pronto. Arriba soldi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.